Ha preso il via ieri a Cornino, presso la centralissima piazza Riviera, la Festa dei Mari 2024, un festival che celebra il mare in tutte le sue sfaccettature. Grande affluenza sin dalla prima serata tra talk, villaggio gastronomico e divertimento. La direzione artistica è stata affidata alla conduttrice Vanessa Galipoli. Venerdì, sabato e domenica, tre giorni all'insegna del divertimento, ovviamente festeggiamo il mare in un momento di aggregazione e condivisione, sarà una discoteca a cielo aperto, accontenteremo tutte le categorie anni 70, 80, 90, reggaeton, latina e house. Abbiamo un villaggio gastronomico, tre tematiche, uno tutto dedicato al mare, uno dedicato all'innovazione digitale, presenteremo il progetto Custonaci Bitcoin Valley e uno tutto interamente dedicato al turismo. La manifestazione è organizzata da Birra dei Mari e patrocinata dal comune di Custonaci. Io e il mio amico e il socio Paolo da anni avevamo la voglia e l'intenzione forte quella di creare un appuntamento, possibilmente annuale, che fosse veramente dedicato a quello che il mare da sempre ci regala e da quello che il mare da sempre ci offre. Abbiamo voluto creare anche gli approfondimenti, i workshop, dedicando ogni anno, nei tre giorni, delle tematiche forti. La festa chiaramente è una festa per tutti, ecco perché gli spettacoli sono totalmente gratuiti, perché l'aspetto sociale dei nostri sforzi deve essere sempre priorità e faro della nostra azione. Siamo qui al secondo anno, l'anno scorso abbiamo iniziato a Custonaci, quest'anno a Cornino e a Cornino continueremo a essere. È uno di quegli eventi su cui noi puntiamo in maniera importante come amministrazione comunale, perché mette insieme tutta una serie di fattori, segmenti, di ragionamenti. Poi in un contesto straordinario, la nostra Cornino, da questo inverno Borgo Marinaro riconosciuto ufficialmente dalla regione siciliana, è veramente qualcosa su cui spendersi in una proiezione di carattere di turismo sostenibile per il futuro, dove non soltanto una nicchia, ma sempre più persone attraverso una sensibilità che venga sviluppata fin dalle più giovani generazioni, possa fare di Custonaci, di Cornino, ma anche dall'altra parte della riserva Montecofono di Frassino, un luogo di attrazione per riconoscere una Sicilia con una sfaccettatura, quella che da sempre caratterizza la Sicilia occidentale, legata al buon cibo, agli spettacoli della natura, al patrimonio architettonico. Un momento particolarmente significativo della festa è stata la consegna del Premio dei Mari a Maria Guccione, figura emblematica dell'isola di Favignana, celebrata per il suo contributo alla promozione della cultura marinara dell'isola. Questa sera e domani si proseguirà con il programma della manifestazione, volta alla promozione turistica del territorio.